C'è da recuperare il ritardo accumulato in un percorso di insediamento accidentato con tre commissari bocciati dal Parlamento europeo. Difficoltà superate o prime avvisaglie di un mandato che sarà complicato. Si è parlato anche di questo nel corso di How can we govern Europe la due giorni sulla governance europea organizzata a Roma da eunews.it. Far passare le politiche dentro a questo Parlamento europeo sarà un po' più complicato perché intanto già la maggioranza istituzionale di base passa da due a tre partiti. I sovranisti sono riusciti ad avere comunque un ruolo che può creare disturbi e già hanno fatto penare qualche volta la nuova commissione. Però c'è una condivisione di obiettivi abbastanza larga nel Parlamento quindi poi sarà nei singoli atti che troveremo dei problemi. Grazie a tutti.